Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes Carissimi, preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera preghiamo per il Santo Padre, Papa Francesco, per tutti gli ammalati per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via melo o via telefono preghiamo per la conversione dei peccatori tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni primo mistero del dolore l'agonia di Gesù nel Gezzemani Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice però non come voglio io, ma come vuoi tu mentre preghiamo questo mistero del Rosario Dio ci conceda di aprire gli occhi di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato e tutta la devastazione che produce in noi attorno a noi per arrivare a dire con umiltà mi alzerò andrò da mio Padre e gli dirò Padre, ho peccato Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra Siamo nosci Siamo Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come me, a 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 me. Aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crucifisso. Attraverso la passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza, nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperto alla porta per ritornare a casa. Approfittatemi finché avete tempo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi la nostra Paglia e il Paglia, e venite con noi i nostri piedi, come a me, 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 a me. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gesù, incoronato di spine, gli misero addosso un manto scarlato e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti, sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla degnità della persona umana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, creda per noi e per noi. Adesso è il nome della nostra morte. Amore, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, creda per noi e per noi. Adesso è il nome della nostra morte. Amore, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, creda per noi e per noi. Adesso è il nome della nostra morte. Amore, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, creda per noi e per noi. Adesso è il nome della nostra morte. Amore, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, creda per noi e per noi. Adesso è il nome della nostra morte. Amore, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, creda per noi e per noi. Adesso è il nome della nostra morte. Amore, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, creda per noi e per noi. Adesso è il nome della nostra morte. Amore, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, creda per noi e per noi. Adesso è il nome della nostra morte. Amore, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, creda per noi e per noi. Adesso è il nome della nostra morte. Amore, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, creda per noi e per noi. Adesso è il nome della nostra morte. Amore, amore. Santa Maria, Madre di Dio, credo per noi e per noi. Amore, amore. Amore, amore. Amore, amore. Amore, amore. Guai, amore. 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 Cristo ci aspetta, lo riconosceremo, lo soccorreremo o moriremo nel nostro egoismo? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Grazie a tutti i nostri amici, che vengono per i nostri eriti, come andiamo in cui viviamo nella nostra vita, e come andiamo a terra, 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 e come andiamo a terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Spirito Santo, come erano gli dici, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Quinto mistero del dolore, Gesù muore in croce. Gesù gridò con voce forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraverso i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce il coraggio di San Giovanni Paolo II. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga al Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e venite a noi i nostri debiti, come anni di cui vi chiamo ai nostri titoli. E' un'altra patola, c'è la nostra scuola, e la nostra scuola, e la nostra scuola, e la nostra scuola, e la nostra scuola, amma. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria Madre di Dio, che è la nostra scuola, e la nostra scuola, e la nostra scuola, amma. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che è il tuo nome e per tutti, adesso è il tuo nome della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che è il tuo nome della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il Signore, il Signore è con te. Tu sei benedetto è il tuo nome. Preghiamo ancora per il Santo Padre, Papa Francesco, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al principio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Salve Regina, Mater Misericordia. Vita Dulceto, espes nostra salve, ad te clamamus, exules filieve, ad te suspiramus, de mentes enflentes, in a clacrima rumbale. Ella ergo, Advocata nostra, in los Tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesu benedictum fructum ventris Tui, nobis posto quesilium ostente. Cantico di un anziano. Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremante. Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti. Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. Benedetti quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. Beati quelli che mi saranno vicini. Nel momento del mio passaggio, quando entrerò nella vita senza fine, mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi. Rimanga sempre. Dei nostri ammalati, lenisci il dolore, che sian consolati dal dolce tuo cuore. Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodatino dice semplica, innesia facili la cena molto sicuroIsis. Grazie.